E una me la dovevano concedere, almeno una tra Napoli e Inter me la dovevano concedere, dico la verità, anche proprio per una rivalità in un qualche modo personale avrei preferito contro l'Inter, però tutto quanto è accaduto dopo Juventus-Napoli e nel senso obiettivamente non ce ne priviamo, non ce ne priviamo proprio per nulla, anche se sono rimasto un pochino deluso, sono rimasto un pochino deluso perché una volta finita la partita li ho visti tutti quanti, bella rintanati nei loro lidi, non hanno dato sfoggio a particolari polemiche, particolari complotti, anche perché probabilmente c'è stato letteralmente il nulla condito con niente, però ci sono rimasto parecchio male, ma fortunatamente però c'è stato un bel prepartita caldo, bollente, intenso, che col senno di poi, sapendo come sono andate a finire le cose, a tutti gli effetti, il godimento è abbastanza importante, abbastanza perentorio anche perché no, ed è sempre meraviglioso, obiettivamente è sempre meraviglioso, anche perché come ha detto anche giustamente Allegri, tra una roba e l'altra, questa serie qui per una partita contro il Napoli è da un bel pezzettino che mancava, era veramente da un bel pezzettino che mancava e ci voleva, obiettivamente ci voleva, infatti direi come al solito intanto di lasciare un mi piace ai limiti del doveroso, veramente è un obbligo, è un'imposizione che vi do, e se dopo la partita contro il Monza abbiamo superato anche agevolmente i 2.500 mi piace richiesti, nel momento in cui si parla in questo caso di un Juventus-Napoli direi, obiettivamente direi, che almeno 3.500 li merita proprio, perché obiettivamente penso anche li meriti abbastanza il video, però ci arriviamo tra poco, perché intanto se ancora non l'avete fatto vi invito ad iscrivervi al canale, perché robe di questo genere da altre parti non è che si vedono proprio con tutta questa grandissima facilità, quindi voglio dire non perdetevi altre cose di questo genere, iscrizione d'obbligo e tanti saluti, poi tutti quanti amici con affetto anche molto caloroso, ma appunto basta, troppa gentilezza, non perdiamoci in queste robe che abbastanza futili, e appunto direi premessa e partiamo e io così insomma non direi di fare tante altre chiacchiere, perché quelle fatte fino adesso sono anche state abbastanza sufficienti direi, quindi senza troppi indugi io vi voglio solamente ricordare una cosa, che non sarà mai una partita di calcio, perché effettivamente nel momento in cui spesso e volentieri, soprattutto i media, magari anche proprio quelli locali la vendono il nord contro il sud, i Borbone contro i Savoia, i poteri forti contro le vittime dei poteri forti, tutte queste pugnate qui non può mai essere, soprattutto per loro, anzi quasi solo ed esclusivamente per loro, solo una partita, perché ad esempio se molto banalmente ci mettiamo a fare un confronto su quello che è il palmarès delle due squadre, è ovvio partita non c'è nemmeno lì, quindi non è che non solo non è mai una partita di calcio, ma non può neanche essere una partita in generale, se vedi quella che è la differenza dell'una e dell'altra, quindi direi subito di andare avanti ricordandovi un'altra cosa, perché comunque al di là del risultato, contro coloro che l'onestà inviolato, con questo spirito va interpretato, sottolineando quel grandissimo Di Lavezzi che ha deciso, a differenza di tutti gli altri suoi compagni, di non abbracciare Andrea Barzagli, però è anche sempre giusto ricordare che la prima squadra retrocessa per il lecito, dato che si parla dell'onestà e tutte queste cose, sono proprio loro, è comunque pur sempre giusto ricordare questa roba qui, chi ha vinto Scudetti con giocatori d'opazzo, sono loro comunque nel senso, o con delle monetine ad hoc, stai a terra, stai a terra, cioè insomma adesso va bene, essere o millantare di essere quelli belli, puliti, puri, onesti e candidi, ma anche riguardo loro e la loro storia, volendo ce ne sarebbe da dire, ma è giusto, comunque continuare a ribadire questo concetto obiettivamente, dopo gli scandali reiterati, i patteggiamenti, le finali vinte, il terzo Scudetto più onesto di sempre, Juventus-Napoli è diventata una partita normale, la Juventus ha perso definitivamente la stima degli avversari, non è più il gigante da battere, ma un bulletto da ignorare, ecco forse perché alla fine l'hanno pure preso nel culo, magari hanno detto dai andiamo a Torino ignorandoli e l'hanno fatto e giustamente sono tornati con il culo un pochino in fiamma e ci può stare, sono comunque punti di vista e pur sempre modi di interpretare la partita che vanno assolutamente rispettati, questo ci mancherebbe altro e tra l'altro si è visto come i suoi compagni di tifo reputano Juventus-Napoli una partita normale, quindi in tutto questo trapela anche dell'incoerenza proprio mica da ridere, però nonostante tutto va bene queste robe che sono alla fine le classiche che puntualmente vengono ripetute da chi cerca di millantare onestà, tutte queste pugnate che va bene, va benissimo per l'amor di Dio, però al di là di tutto questo qual è il sentore dei tifosi del Napoli attorno a questa partita, perché adesso va bene tutto quanto, ma noi ci interessa anche questa roba qui per capire bene o male come è vissuto il pre-partita di Juventus-Napoli, come ad esempio, prima di Bergamo vi dissi che avremmo vinto, prima del Reale dell'Inter vi avvisai che avremmo perso, ebbene miei pargoli, nuntio avobis Gaudium Magnumum, venerdì li penetriamo, cosa che ad esempio questo tifoso ha deciso di rimarcare anche diverse volte nel corso della settimana di accompagnamento a Juventus-Napoli, soprattutto guardando la diretta avversaria, perché appunto se giocano così contro di noi ne prendono quattro segnate, e me lo sono segnato, il Napoli non l'ha fatto, non ha segnato un cazzo, io però appunto me lo sono segnato, solo che in tutto questo è capitato anche un piccolissimo cavillo giuridico, via chiamiamolo semplicemente così, una prassi anche da un certo punto di vista, perché a tutti gli effetti qualche giorno prima dell'inizio della partita vengono anche designati gli arbitri, e purtroppo, e purtroppo per Juventus-Napoli è stato designato Orsato, è stato designato Orsato per Juventus-Napoli, e quindi come cambia? La narrazione, la narrazione è proprio dello stesso tifoso che abbiamo avuto la possibilità di leggere nei due commenti precedenti, che una volta però che ha capito che la partita sarebbe stata arbitrata da Daniele Orsato, quando in due big match consecutivi ti mandano Masse Orsato, significa che te la vogliono far pagare col sangue, killer, e dici cavoli ma se alla fine aveva già detto, aveva avvisato i pargoli che la Juventus sarebbe stata penetrata dal Napoli, che a maggior ragione una volta vista Juventus-Monza come minimo, come minimo il Napoli ne darà 4 alla Juventus, adesso basta che venga disegnato Orsato per iniziare a fare una tragedia greca e per curiosità dici, ma quale tipo di problema affligge magari certi tifosi, è presto detto, perché banalmente ti basta andare a controllare quello che è il suo profilo, vedi che ha fatto un abbonamento su Twitter, clicchi su quell'abbonamento e puntualmente che cosa verrà mai fuori, quindi tutto è molto estremamente più chiaro e capisci tante più robe, per l'amor di Dio, però non è l'unico onestamente che ha fatto qualche riflessione attorno a Orsato, perché anche proprio il mattino all'interno di un articolo ha parlato di Dio Napoli che se l'è abbastanza presa per la designazione di Daniele Orsato, ha fatto un pochino storcere il muso all'ambiente azzurro, poi ovviamente come anche quasi d'abitudine ogni qualsiasi volta che c'è Orsato ad arbitrare una partita della Juventus, viene fatta venire fuori questa fake news che era stata smentita una roba come cinque anni fa, perché una volta si parlava che il soggetto in questione fosse il fratello di Orsato, mentre poi si è venuto a sapere che si tratta del cugino, quindi abbiamo scoperto che nel 2023 il cugino di un arbitro non può tifare per nessuna squadra, va benissimo, ma a maggior ragione dopo la designazione di Daniele Orsato, arbitro che è stato anche particolarmente coinvolto in un Inter-Juventus di qualche anno fa, proprio per questo motivo, soprattutto per questo motivo, non occorre dire nulla su stasera, basta questa, il logo dell'Inter e del Napoli mixati assieme, ecco perché ieri è stata abbastanza una merda, forse è anche un pochino tutto più chiaro, però una roba abbastanza triste, è una roba abbastanza triste, ma al di là di tutto, al di là di tutto, iniziando un pochino di più a sentire l'odore del match, bisogna anche sottolineare una cosa obiettivamente ragazzuoli, questa roba quantomeno va minimamente sottolineata, al vino comincia, bianconeri avvantaggiati, Juve Napoli perché si gioca di venerdì, non lo so, comunque avvantaggiati di cosa, noi non facciamo neanche le coppe, voi fate pure quelle, tra le altre cose la vostra prossima partita sarà anche abbastanza importante, perché potrebbe decidere il passaggio del girone oppure no di Champions League, quindi insomma non vedo quale tipo di vantaggio possa aver tratto la Juventus, perché voi avete giocato di domenica e noi di venerdì, una squadra che è abituata a giocare le competizioni europee, 5 giorni di riposo, non penso sia una roba così tanto svantaggiosa, magari io volendo la prossima volta si può giocare di domenica sera, che voi poi avete la Champions League 2-3 giorni dopo, ma probabilmente ci sarebbe stato il pretesto per piangere comunque nel momento in cui si parla di Carlo Alvino e l'ultimissima cosa, prima di iniziare il match, proprio l'ultimissima cosa a pelo, perché nel pre-partita è stato premiato Massimiliano Allegri come allenatore del mese, nel momento in cui di fatto le ha vinte letteralmente tutte, a parte un pareggio in casa contro l'Inter, quindi nel momento in cui Inzaghi ha già vinto penso che tutto sommato ci possa stare, dare il premio ad Allegri, no, no. La Lega Serie A difende il brand, brand per un premio individuale come allenatore del mese a Massimiliano Allegri, dove il vincitore di suddetto premio viene deciso dai direttori delle testate giornalistiche sportive italiane, quindi sicuramente c'è una volontà totale di salvaguardare il brand Juventus, perché magari Zazzaroni, Vacciago, quello della Gazzetta e di tutte le altre testate giornalistiche hanno deciso di premiare Massimiliano Allegri, è una roba che va al di là di ogni logica, quindi a questo punto direi, anche perché giustamente si è fatta una certa, di far iniziare la partita, di far iniziare la partita dove a livello di episodi arbitrali ha praticamente nulla da dire, solo che una piccola cosa, un altro paio di piccolissime circostanze riusciamo, vuoi o non vuoi a trovarle, entrambe durante il primo tempo. La prima è quando Kvaraschelia, in un modo anche abbastanza infido, alle spalle, abbastanza da coniglio diciamolo, decide di scaraventare il pallone sulla schiena di Federico Gatti che addirittura due secondi prima tocca il petto rientrando a Kvaraschelia, quindi voglio dire fa un gesto di una gravità inaudita, infatti sinceramente per qualche istante mi sono anche preoccupato seriamente per l'incolumità del Giorgiano, ma questo comunque dà la possibilità di potersi sfogare liberamente. Gatti premio fair play, this is Italy, the brand, cioè per brand che comunque nel dubbio va buttato in mezzo per un premio che tutto sport ha deciso di dare a Gatti, anche qui dove la Lega è pienamente coinvolta, ma si sa che il brand viene salvato con i premi individuali ad Allegri come allenatore del mese, a Gatti perché tutto sport decide di dare un premio a Gatti, d'altronde in Cromo Somalia questo e tanto altro, ha buonato un giallo a Gatti come ci tiene a sottolineare il buon Tancredone, ma quanto sarebbe stato bello invece, dico io, se Gatti dopo l'1 a 0 si fosse tolto la maglia, così avrebbero fatto una polemica inaudita di Gatti che sarebbe dovuto essere espulso, invece no, purtroppo ha deciso di esultare in un modo umano e di questo ne faccio una colpa a Federico Gatti se posso essere sincero, perché uno come lui abbastanza solito alla cacciara doveva, anche nonostante l'euforia del gol, pensare a questo fatto e togliersi la maglia e sbandierarla un pochino come aveva fatto Turam dopo lo 0-3 di una settimana fa, vedendo che il Napoli in questa stagione è anche particolarmente solito a prendere Mazziatoni a destra e sinistra, peccato, peccato, obiettivamente da Gatti mi sarei aspettato decisamente di più, guardo il giallo di Gvara e penso al premio Fair Play a Gatti, Iconati, e penso il bruciore di culo dopo che l'ha pure buttata dentro, se prima avevi Iconati pensa dopo, il bruciore di culo quando traranna, una roba poco piacevole deve essere stata, hanno davvero dato a Gatti il premio Fair Play, che lega di pagliacci e su questo io concordo pienamente, se non fosse che non è stata la Liga a dare il premio, però d'altronde non è che ci si può pretendere tutto a chi millanta di essere giornalista napoletano, adesso non è che puoi arrivare a questa pretesa dove basta fare una piccola ricerca su Google di due secondi e mezzo per sapere chi dà il premio Fair Play durante il Golden Boy, adesso non è che possiamo stare qui, sempre a sottolineare tutto quanto. Ammonito Kvara, ma secondo voi perché hanno mandato proprio Orsato? Perché così almeno ci ha fatto capire che Kvara Schegli era della partita, altrimenti nessuno si è accorto della sua presenza in campo, hanno chiamato Orsato perché così giustamente ha preso un giallo nettissimo, l'ha messo nella lista dei giocatori ammoniti e tutti quanti abbiamo avuto la possibilità di notare che il giocatore comunque è entrato anche in campo e ha giocato anche quasi tutta la partita, ha fatto il fantasma per quasi tutta la partita, bene o male ha questo fondamentalmente servito Orsato. Gatti premio Fair Play e ammunizione per Kvara, in Serie A funziona così? Eh sì, è il bello che poi fa vedere anche le immagini particolarmente gravi e dove ribadisco mi sono anche pesantemente preoccupato per l'incolumità di Kvara Scheglia e qualcuno però chiede di più, c'è sempre chi in qualche modo fa sempre il passo più lungo della gamba e ti regala la perla come se quelle viste fino adesso non fossero state sufficienti. Se il VAR funzionasse anche per queste immagini Gatti non giocherebbe mai, il giocatore più subdolo antisportivo della Serie A e invece gli si dà un premio e poi tutti a criticare le categorie infantili per la violenza ma correlazioni proprio una dietro l'altra e tutto estremamente correlato questo ci mancherebbe altro però addirittura il VAR eh, il VAR che voglio dire addirittura magari si fanno anche qualche grassa risata rivedendo le immagini e notando, sottolineando la vigliaccheria del fantasma di Castelvolturno perché è anche giusto sottolineare questa roba qui voglio dire, però veramente spettacolari, semplicemente spettacolari e il secondo episodio perché prima avevo parlato di due episodi, il primo come banalmente avrete intuito è quello no, di Kvare Gatti che va bene, che va bene, almeno uno e risultato anche poi a tutti gli effetti decisivo ai fini del match, riguarda Rabiu Izieliski perché così dopo la partita mi era capitato sto tweet del profilo fake di Gagliardini che obiettivamente mi aveva ucciso perché era palesemente ironico che serve solamente a far abboccare i boccaloni appunto perché di fatto è quello lo scopo spesso e volentieri di questi profili twitter, Rabiu parla di lealtà ma è il primo ad essere antisportivo dando una ginocchiata sul viso a un avversario, spero per lui che la Juve non perda perché di sicuro parlerebbe male dell'arbitro, ok quello che fa la pesca come si dice in gergo che spera di attirare dei boccaloni e però poi dopo c'è chi riporta in un modo un pochino più serio, sento la mentele qui, poi per curiosità vai a vedere si tratta di un tifoso interista, Anarnia questo e tanto altro, mi sembra superfluo dire che era stato inizialmente fischiato fallo per il Napoli dove Orsato ha dato vantaggio perché l'azione è proseguita, Rabiu non è riuscito a saltare completamente Izieliski e l'ha toccato col ginocchio sulla testa ma fondamentalmente è una roba che nasce e finisce lì, però per qualcuno a città laggiù evidentemente no, una rarissima eccezione non è però sempre giusto sottolineare perché comunque spesso e volentieri le eccellenze le eccellenze di città laggiù vanno in un qualche modo premiate e quindi a questo punto direi di far finire anche velocemente il primo tempo perché comunque non c'è stato letteralmente nulla anche se comunque è già tutto deciso, bisogna solo vedere il minuto, la modalità e l'autore del furto perché nonostante tutto c'erano dei particolari presagi attorno alla partita, quali non lo so, sono specializzato in tante cose del metaverso ma qui obiettivamente ancora non ci arrivo, però un piccolo sentore potrebbe essere quello che è accaduto all'inizio del secondo tempo perché questi qua hanno colpito un palo su un fallo enorme che Orsato ha fischiato solo alla fine dell'azione, se la Juve avesse segnato non l'avrebbe neanche annullato e un criminale, piccolo cavillo giuridico, non è stato fischiato nessun fallo, è stato fischiato fuori gioco. Sicuramente se la Juventus avesse segnato non sarebbe stato neanche annullato, effettivamente quando mai alla Juventus vengono annullati dei gol per magari degli episodi accaduti 20-30 secondi prima o a iniziazione, effettivamente mai questa roba va pienamente riconosciuta, per l'amor di Dio bisogna alzare le mani ma Orsato comunque in tutto questo bisogna sempre ricordare che è un criminale e ci mancherebbe altro perché ha fatto continuare un'azione prima di fischiare come ormai accade da qualche anno a questa parte, da quando è stato introdotto il VAR, non fa minimamente una piega il ragionamento di costui ma d'altronde è quello che se Allegri vince il primo allenatore del mese bisogna tutelare il brand, non è che ti puoi aspettare dei commenti particolarmente alti, però è tutto normale quando si continua a far giocare un'associazione a delinquere come se nulla fosse, giustamente e infatti per coerenza, per correttezza poi arriva il gol di Gatti che pam, proprio lui il giocatore più discusso da qualche Juventus-Napoli a questa parte che decide di decidere una partita, la partita dopo aver deciso anche Monza-Juventus una settimana fa e poi nonostante qualche tentativo del Napoli, qualche cappella di Scesni dove per fortuna Ximena era in fuorigioco, fondamentalmente poi non è successo nulla, non è successo nulla, non ci sono stati neanche dei contatti dubbi in aria che avrebbero potuto far gridare allo scandalo a favore della Juventus che sarebbe stata anche abbastanza un'incoerenza dopo aver ricevuto un furto con scasso domenica scorsa al San Paolo dove però, perché così la Juventus ha la possibilità di tornare seconda, si è eletto anche di questa roba qui e sarebbe stato anche un pochino la meraviglia del paradosso come si dice in gergo, però purtroppo non è capitato nulla, non è successo letteralmente nulla e dispiace anche da un certo punto di vista, dispiace perché altrimenti ci sarebbe stato un po' spartita un pochino più vivace e a questo punto quindi anche con il cuore a pezzi direi di far finire la partita e intanto mi sembra doveroso ribadire subito una cosa, l'ha persa il Napoli, non l'ha vinta la Juve, la partita di ieri e se ce lo dice Carlo Albino io obiettivamente tendo a crederci, tendo decisamente a crederci anche perché potenzialmente può essere sicuramente un punto di vista, non l'ha vinta una ma l'ha persa l'altra, ma se l'altra comunque la perde significa che l'avversaria ha vinto e quindi va benissimo così, ci mancherebbe altro K o è meritato per il Napoli che domina il primo tempo fallendo tre palle gol, una clamorosa con Vara che sbaglia un rigore in movimento, la Juventus trova il successo i tre punti d'oro con il gol di Gatti e la solita difesa impermeabile, delusione per gli azzurri che perdono il quarto posto, forza Harry! la tua squadra del cuore, la passata stagione ti ha regalato veramente tante soddisfazioni se ne ha volto ogni tanto, succede il contrario, cosa ci dobbiamo fare purtroppo? dispiace anche che non sei riuscita a trovare l'appiglio minimo su qualche episodio arbitrale e se non ce l'hai fatta a te significa veramente che ieri c'è stato il nulla condito col niente perdere contro questi scaldabagni è troppo, due cross, il pullman e noi soliti errori clamorosi Ramani non salta più, ha del piombo, belle scarpe, che Vara non c'è, infatti è il fantasma di Castelvolturno appunto come già detto diverse volte, la gestione dei cartellini di Orsato pura pirateria di un sistema marcio, quindi voglio dire comunque nonostante tutto il cavillo arbitrale cercandolo lo possiamo pure trovare, è strano però che comunque poi vai a vedere Juve e Napoli hanno fatto di fatto gli stessi falli, l'unica differenza è che la Juventus non ha fatto le reazioni infami come Kvaraschelia, quindi non ha preso dei gialli per reazione due ammoniti la Juventus, quattro il Napoli, quest'anno penso si possa poco parlare di gestione dei cartellini, si è rivolta la Juventus vedendo che mediamente ogni due falli ti scappa un giallo ieri così non è stato caso più unico che raro e ha avuto la media che hanno diverse squadre di Serie A con un giallo ogni sei falli più o meno, è vero che noi eravamo abituati ad un giallo ogni tre una volta che il doppio non muore nessuno, ma bene o male anche il Napoli, un giallo ogni tre, un giallo ogni quattro, se andiamo a considerare il giallo di reazione a Kvaraschelia dove di fatto non c'è stato nessun fallo nell'atto pratico però bravi che nonostante tutto siete riusciti a trovare il piccolo cavillo arbitrale, quest'anno non ci gira niente per il verso giusto, anche stasera non meritavamo la sconfitta contro un Ascoli chiuso in difesa e che ha trovato il gol all'unico tiro in porta, però cavoli il calcio più bello e più spumeggiante d'Italia, la squadra che ha fatto sognare l'Europa e non riesce a battere un Ascoli chiuso in difesa con le individualità, con il giuoco è cavoli, è molto strano, poi è facile dire non gira niente per il verso giusto, è come dire che l'anno scorso è girato sempre tutto quanto per il verso giusto ed è legittima un pochettino una vittoria che invece è stata estremamente meritata, non si fa obiettivamente così, non si fa e per finire ormai un grande classico dei tempi moderni che fa sempre piacere leggere, la Juventus attualmente prima non ha una spiegazione logica, confidiamo in padre tempo, ma sta attento a confidare sempre, in padre tempo che alle volte magari bussa la porta e ti fa portare i libri in tribunale perché con un miliardo di debiti e patrimonio netto negativo padre tempo ci arriva, con voi rischia di essere particolarmente bastardo, poi come anche già detto sempre bene se tutto quanto viene semplicemente etichettato come culo, mai come organizzazione, capacità, caparbietà o facessero sempre così anche tutti gli allenatori avversari che affrontano la Juventus di settimana in settimana o preparando le partite così a loro modo perché tanto al massimo hanno avuto solo ed esclusivamente culo fino adesso realizzando 36 punti, fosse vera la madonna che facessero tutti così, benissimo, benissimo e prima però di lasciarvi voglio ricordarvi questa perla passata perché a tutti gli effetti è di questo, che si parla di una dichiarazione di qualche mese fa ma che mai come dopo Juventus-Napoli torna precisa, puntuale e che quantomeno va semplicemente ricordata. Il ciclo vincente ce l'ha insegnato il Napoli come si fa e il resto non conta. Un ciclo vincente che vede la stessa squadra a distanza di qualche mese dopo il terzo scudetto della loro storia a distanza di 33 anni, sempre per parlare di cicli particolarmente lunghi e vincenti e ha meno 12 con un potenziale meno 14 dal primo posto dopo 15 giornate di campionato. E beh, minchia, ciclo vincente, mica come quei bastardi che magari per nove anni di fila vanno a vincere dove lì la cosa più intelligente l'ha detta Cassano e che è veramente un tutto un dire e mi sembrava giusto proprio dopo Juventus-Napoli ricordarvi questa perla. Chi ne ha vinti nove di fila e chi ne ha vinto uno dopo 33 anni e dopo 15 giornate e ha potenzialmente meno 14 dal primo posto, neanche tra le prime quattro. Me coioni, che bel ciclo. Detto questo, ragazzuoli, nulla. Io mi auguro che il video vi sia piaciuto e che vi abbia intrattenuto a dovere. Vi mando un grosso abbraccio, tanto per cambiare fino alla fine. Forza Juve! Forza Juve! Forza Juve! Grazie.